Gli Etruschi. La loro civiltà iniziò a svilupparsi nell'VIII secolo a.C. in Etruria, una zona compresa tra l'attuale Toscana, l'Umbria e il Lazio del Nord. Più tardi si diffuse verso nord fino alla pianura padana e verso sud fino alla Campania. Nel 396 a.C. a Beio, città etrusca, gli Etruschi furono sottomessi, cioè furono sconfitti dai Romani e quindi la loro civiltà sparì. Il governo e le città. Gli Etruschi fondarono tante città. Ognuna formava uno stato a sé, non si unirono mai in un unico stato. Quindi si trattava di città-stato indipendenti. Ognuna aveva le proprie leggi e chi la governava. Ogni città era governata da un re, detto Lucumone, che era aiutato a governare da alcuni aristocratici, quindi da alcuni nobili. Aveva potere politico, giudiziario, militare e religioso. Nel 600 a.C. venne fondata la Lega dei dodici popoli, che comprendeva le dodici città più importanti dell'Etruria. Ogni anno i rappresentanti di queste dodici città si riunivano per prendere decisioni importanti. Verso la fine del V secolo a.C., dalla monarchia, quindi dal governo di uno solo, si passa all'oligarchia, al governo di pochi. Al di sotto del re e degli aristocratici c'erano i mercanti, gli artigiani, i contadini e gli schiavi. Gli Etruschi costruivano città fortificate, quindi circondate da alte mura difensive. Alcune di queste città si trovavano su di una collina, per controllare il territorio circostante, e spesso vicino a un fiume. Altre invece si trovavano sul mare, lungo le coste, e avevano un porto da cui partivano le navi. Tutte le città erano provviste di acquedotti, una serie di canali di scarico che portavano l'acqua alle case, e da una serie di canali di scarico a parte che invece formavano la rete fognaria. Gli Etruschi furono i primi a costruire l'arco e la volta, che servivano a dare stabilità a grandi edifici e punti. La religione degli Etruschi Gli Etruschi erano politeisti, cioè credevano nell'esistenza di più dei. I loro dei erano simili a quelli dei greci. C'erano gli auguri, che erano dei sacerdoti, che interpretavano la volontà degli dèi, osservando il volo degli uccelli. E altri sacerdoti, gli aruspici, che invece interpretavano la volontà degli dèi, osservando, interpretando le viscere, quindi l'interno degli animali sacrificati. Questa era un esempio, è un esempio di tomba, dove seppellivano gli Etruschi, i loro defunti. Queste tombe si trovavano nella parte della città detta Necropoli, appunto dove gli Etruschi seppellivano i defunti. Grazie. Grazie.